Pronto signora Serafina? Pronto? Parlo con la signora Serafina? Sì. Senta signora Serafina siamo della napoletana gas, stiamo chiamando per la bolletta del gas, non ci risulta pervenuto il pagamento, come mai? Eh non lo so, si è arrivata la bolletta. Signora, ma lei che si occupa del bolletta in casa e se ne occupa sua figlia? Eh si preoccupa mia figlia però anche perchè. Ah ho capito, senta comunque il suo figlio adesso non sta in casa? No. E come mai? È andata a lavorare, ancora deve venire. Signora ma ci dico una cosa, ma lei la va a casa e ci dà? Sì. Grazie. 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 Grazie.